Accorciare la filiera del riciclo e abbattere le spese a beneficio della collettività. Questi i più importanti presupposti che hanno convinto la Dedola Ambiente rappresentata dai commissari straordinari Antonino Lobrutto e Antonino Monreale dal commissario liquidatore Rosario Miceli a scegliere il centro comprensoriale Corepla della Ecofeis per il conferimento a costo zero della plastica. Non possiamo che sottolineare, dice Gero Larocca, amministratore della Ecofeis, il merito dei commissari della Dedola Ambiente che hanno dimostrato immediata sensibilità nel cogliere i vantaggi economici che il nostro nuovo impianto di selezione garantisce ai comuni dell'ambito. È un primo passo che segna un'inversione di rotta nella gestione dei rifiuti del nostro territorio verso una razionalizzazione dei costi che andrà a beneficio dell'intera popolazione. La plastica, che attualmente viene raccolta inoltre, viene imballata e stoccata presso lo stabilimento Ecofeis senza gravare di un solo centesimo sulle casse pubbliche dal momento che il CONAI incentiva i gestori della raccolta nell'utilizzo delle piatteforme autorizzate più vicine accordando un corrispettivo destinato proprio alla pressatura. Accorciare la filiera del rifiuto secco obbedisce alle linee guida di tutte le normative vigenti, sia comunitarie che nazionali, che privilegiano chiaramente i principi di prossimità degli impianti ed economicità del servizio. Due parole chiave sulle quali Ecofeis sta spendendo energie e risorse affinché la differenziata possa diventare a breve un grande valore aggiunto di rispetto dell'ambiente e di abbattimento delle tasse per tutte le famiglie del territorio. Ecofeis è attualmente al lavoro per definire al meglio un piano per la selezione della plastica che garantirà una maggiore qualità del materiale e dunque maggiori corrispettivi CONAI a beneficio dei comuni. Inoltre si sta mettendo in ordine ogni particolare necessario ad accogliere al più presto anche carta, cartone e vetro, tutto naturalmente a costo zero. Se c'è una serena disposizione al dialogo, conclude Gero Larocca, se c'è un atteggiamento onesto da parte dell'impresa e dell'ente pubblico, è finalmente possibile dare segnali concreti alla popolazione. Il nostro obiettivo principale è quello di produrre risultati tangibili. La nostra società ha un bisogno vitale di imprese sane che magari non puntino senza troppi scopoli ad attingere principalmente alle casse pubbliche. Si può perseguire sia per il benessere dell'azienda che quello della collettività. Le due cose non devono essere in contrasto, anche per questo abbiamo condiviso pienamente il codice etico di Confindustria. La logica di apertura della giovane azienda negli scorsi mesi ha già dato vita a programmi dedicati alle scuole, iniziative volte a divulgare il messaggio della raccolta differenziata come traguardo fondamentale per l'ambiente e l'economia del territorio.